brand tra i più apprezzati conosciuti e scelti dalle spose italiane e straniere Nicole Milano è oggi uno dei marchi di punta di Pronovias Group oggi un'importante presenza anche qui al Si Spose Italia a Milano e sono il piacere di essere con Nicole Cavallo che è la designer nel cuore creativo di Nicole Milano grazie Paola un piacere veramente rivederti e un piacere essere qui perché è veramente il segno di una ripartenza esatto è una presenza importante la vostra la tua quella di Pronovias Group qui al Si Spose Italia perché esserci quale il valore esserci innanzitutto con tutti i brand del nostro gruppo è stato un messaggio importante che abbiamo voluto dare anche di ottimismo di entusiasmo e soprattutto secondo noi era importante esserci per ripartire insieme e non fare una scelta individualista ma essere insieme anche altri operatori del settore per andare verso il futuro che secondo me sarà molto molto positivo veniamo infatti da un anno e mezzo complicato complesso diciamo così non semplice cosa ti porti cosa si porta un po l'azienda dietro quindi cosa ha acquisito anche rispetto a ciò che sarà poi io credo che questo in quest'anno abbiamo imparato tantissimo perché quando tutto va bene è più difficile mettersi in gioco mentre invece quando ci sono dei periodi più difficili devi reinventarti devi trovare il modo di adattarti alla nuova situazione così noi abbiamo fatto devo dire che c'è stata un'importante digitalizzazione sotto tutti gli aspetti quindi dal commerciale ancora di più verso i social media al marketing e poi sicuramente abbiamo affrontato dei temi importanti quali la sostenibilità che sarà molto presente nelle nuove collezioni e tematiche che a cui vogliamo dare importanza perché definisce il futuro della nostra azienda e tra l'altro quindi è uno sviluppo un po a tutto tondo nel senso che attraverso il retailer quindi gli atelier gli operatori di settore verso anche le spose un modo per stare sempre più vicini alle spose esatto pensiamo infatti che quando abbiamo avuto i negozi chiusi abbiamo comunque deciso di attivare questo servizio di virtual appointments in realtà abbiamo avuto tantissime consulenze con le spose dove abbiamo avuto questo tetatette quindi anche l'appuntamento in negozio virtuale ed è una cosa che stiamo mantenendo per cui ci ha insegnato sicuramente delle tecniche che adesso ci sono utili quindi qui presentate le nuove collezioni ma ci saranno anche altri momenti in cui queste verranno rese note assolutamente in questo momento è un momento dedicato ai rivenditori agli operatori del settore però prestissimo presenteremo la collezione ovviamente alla spo alle spose e sarà presente online grazie nicole e paola è sempre un piacere per me lo stesso